Roma, 25 dicembre 2017, ore 020. Tu mi stai dicendo qualcosa, lo sento benissimo, impazzirei, pur essendo sordo, ma non riesco a recedire. Non so se gli altri intorno stanno parlando, penso stiano anche loro agonizzando per la vita perduta, perduta in un altro immenso e buio, tra i loro castelli di carta, costruiti solo per vanità, nel raggiungimento del facile potere. Ma non è così che si vince la vita, è solo così che si annulla l'umano, e della realismo crediamo dietro all'unascrivania. Non tutto è così ostico, di fronte ai nostri fragili occhi, bensì il diaframma ristretto per la lucentezza oggi ritroverà la giusta posizione e l'immagine più vera. Grazie.